La procura di Lecce ha aperto un fascicolo d'indagine sulla morte del giovane Gabriele Cosma, vittima ieri mattina di un tragico incidente nell'azienda di fuochi d'artificio di famiglia sulla provinciale Arnesano-Carmiano. Il procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone ipotizza l'accusa di omicidio colposo al momento a carico di gnoti. Sono due i punti chiave da approfondire, capire cosa abbia effettivamente causato l'esplosione costata la vita al giovane Gabriele e accertare se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza previste per questo genere di attività. L'aria, così come previsto in simili casi, è finita sotto sequestro. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Lecce che lavorano fianco a fianco con i colleghi della stazione di Monteroni e gli ispettori dello Spesal, chiamati a verificare il rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel deposito, al momento dell'esplosione, erano presenti soltanto Gabriele e Gianni Rizzo, l'operaio rimasto ferito. Il titolare, Dario Cosma, padre di Gabriele, si trovava da un'altra parte. Nel fabbricato dove si è consumata la tragedia, però, c'era un macchinario utilizzato, probabilmente, per la lavorazione delle polveri. Solo i successivi accertamenti potranno stabilire se l'apparecchio possa aver determinato lo scoppio. Un altro punto interrogativo riguarda il ruolo della vittima all'interno della ditta. Non si trattava di un dipendente a tutti gli effetti. Il 19enne sembra si recasse di tanto in tanto nell'azienda di famiglia per dare una mano, visto che era in possesso del patentino per l'accensione dei fuochi pirotecnici. Già nella mattinata di ieri il medico legale Alberto Tortorella ha effettuato un esame esterno sulla Salma, recuperando tutti gli indumenti che aveva addosso sui quali successivamente verranno effettuati rilievi tecnici.